buonasera signori madonna tutta temo Halloween che palle vabbè sai che c'è questo coso mi ispira questo coso mi ispira eh che cazzo fa un basso il volume si sto portando un po' di video di Fortnite vabbè vabbè giocato come lo gioco io c'è a cazzo di cane ma si se vinco vinco non vincerò mai a parte che siamo 98 cristiani come cazzo è possibile 3 ore per atterrare questa è l'unica cosa che me la cazzo di cioè dico mi prendo la responsabilità mi voglio schiantare non posso 3 ore per questo dio esame la madonna cazzo è abbiamo trovato già due anni signori sono felice cazzo è un'arma in più buttare via un pompa di fucile se grande questa esamina esami si c'è un'altra cassa la faccio la cazzo si ok la faccio la cazzo mori c'è tranzo ma comune comune sarebbe grigia un attimo e cazzo come cazzo si usa che mi dico doppio ma ecco che cazzo è questo ma se vaffanculo non ho capito non ho capito non voglio capire non mi interessa no perché non ti non potevi aprire dentro la pelana una cassa di dove cazzo non lo fico questo come cazzo si apri il futuro cazzo ho visto apri qua vabbè dai possono sempre servire ma che cazzo da quando si può fare parkour su minecraft c'è chiedo per un compagno molto molto domandoso cazzo ho detto scusa cacata di arma cazzo ora dovevo togliere il sentito da fanculo a cristo noi cosa ecco ma baby baby video can baby che poi diventa un po oh 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 questo fucile mi fa cacare cioè mo questo fucile vabbè questo più potente sicuro questa pistoletta del cazzo a parte che andrà doteggiat così ma fa cacare a prescindere eh eh limite vabbè vabbè penso fosse un player stavo già per urlare in in sette lingue austriache le ostriche ma è rompidio eh eh madonna scusa che cazzo è ma che cazzo è ma vaffan cazzo me ne faccio è uno scudo di merda uno scudo di merda eh mi sa che devono un piano forte la faccio due cazzo ma è vero che si poteva suonare poi in sto gioco no eh madonna ti giuro sembrava un player vabbè dammi questo che schifo non fa ti 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 cazzo ti cazzo ti cazzo ti cazzo è ti cazzo è cura bomba ma si ma si ma si ma si ma si questo scudi ma si scudi lanciabili ma si ma si eh va tu ti fanno un po' ma fai prendere questo mi si può bere e allora va fanno due i cazzo e via qui sono bot vaffanculo cazzo sapevo faccio un player vero qua vai via cazzo 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 va un culo a mamma te amato con la vacca parco dio tutto a modo di caricare mi fa un culo a Cristo curati curati di ok curati e comunque comunque io mi ricordo che per questa cosa dovrebbe poter stare premuti invece no a parte che quello ha lasciato vabbè mo mi cura assoluta è già 75 e voglio curare quello che vuoi fare fai una bella cosa 3 1 grande prendi questo prendi tutto prendi tutto grande ma male con la zocco ma sai che c'è che cazzo e ma e dove cazzo la tempesta vabbè ma bello il cesso nel salotto bah questa casa è molto open space un po' troppo cesso salotto cucina ingresso manco solo la cama da letto sta sopra vabbè c'hai capito perché tu puoi pure cagare nel salotto no no la cama da letto deve essere comunque il cerchio che vedete non mi ricordo come cazzo si chiama ma faccelo cazzo no non si chiama così però dico il cerchio non mi ricordo come si chiama però però è carino sono arrivato un decision però tanto da ridere non è quanti cristiani stanno atterrando qua mi ho fatto capire ovviamente tutti i cristiani che hanno 7000 cose hanno soppato 7 miliardi di roba che cazzo è ma che cazzo da quando ce lo scudo di capitano america oh dove sei dove sei adesso a vacciolo cazzo aspetta da festeggiare dove sei e la funculo che che cazzo ma cara e buon vecchia arma amante con la zoccola la vamo dicendo festeggiamo sei capodanno cazzo si capodanno cazzo si cazzo figa puttana capodanno si buon natale buon natale buon natale viva la figa vabbè quello sempre per Keita una pistola loro non ho mai capito che cazzo serve su sto gioco no 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 c'è lo cazzo bah per cazzo viva la figa si puttana si si viva la figa puttana madonna quanto toglie madonna quanto toglie a me hanno tolto il triplo ma va bene così ma va bene così bevi dai bevi bevi cazzo se bevi vabbè io questo me lo tengo eeeh 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 questo comune grazie si tanto per dice tanto per dice no bello beeeh videocarn beeeh videocarn che diventa un povero curati però figo lo scudo di capitale di capitale america eeeh 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 dai ci sta ci sta vai prendi quest che sono importantissime l'importante è loro della tua vita stessa ma prosit io vorrei capire quanto cazzo toglie sto robo scusa vai prendi io vorrei capire quanto toglie questo eeeh ma non mi dici quanto mi toglie il tuo amore chi è vedo un cazzo chi è sono una mucca no dio madonna quanto cazzo toglie si comunque il dettaglio che mi piace di avere la come eeeh la skin quella gratuita insomma è che tutte le volte cambia a te che sciopi non cambia eeeh eeeh c'è ma ho questa tizia poi ho il maschio biondo poi c'è il maschio eeeh con i capelli neri poi c'è il c'è c'è ci sono tante skin stonks si stonks stock vabbè anche stonks ninja ma questo è poseidone qua faccio la pace vabbè sempre rimaniamo in tema dai questo è poseidone dai fammi fammi una grazia dai andiamo a chiedere la grazia poseidone ci 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 eeeh eeeh la madonna che cazzo tira quello le bombe nucleari però eeeh questo gioco tanto giochino non è 60 giga pesa per dis su console 60 giga pesa quindi tanto è un giochino più o meno si è un giochino perché comunque è un gioco gratuito però 60 giga pesa per dis non è tanto un giochino da 200 megabyte per cellulare è un gioco che può piacere come non per carità però carino ci sta da giocando a nota ogni tanto vedi ma la mia skin è cambiata di nuovo oh ho la femmina bionda eeeh cioè credo cioè i personaggi di base cambiano ce ne sono vari quindi vabbè frego un cazzo però andiamo a vedere che cazzo sta apri veloce vabbè vabbè grazie si eeeh che non vale non vale non vale no pezzo di merda no 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 Grazie.